La sensazione di un'associazione più grande, non siamo il partito, non abbiamo il potere, non abbiamo il governatore della città in questo ultimo periodo, delle cose che voi avete detto riguardo anche a me, in quale assunzione c'è, che ho detto solo sui manifesti dell'attuali sindaco, costruendo insieme il futuro dei nostri figli, probabilmente dei loro figli non devono dire, su questo siamo tutti d'accordo, io l'ho presa, è così, non lo voglio di vedere i loro figli, non lo voglio di vedere tutti gli altri figli, i nostri anni forse qua, voi che siete cresciuti da figli siete diventati ormai lui, l'altro giorno, io voglio concludere, dicendo una cosa molto semplice, Napolitano si è promosso, il nuovo primo Napolitano si è promosso, non è per l'emozione di avere un microfono in mano come non capitano a me, adesso a qualsiasi altra persona, ma si promuove perché vi non lo sai, e avevo detto delle parole, c'è un dovere di umiltà importante per chiunque le compre lui, per chiunque abbia il dovere istituzionale, ecco questo penso che sia il pensiero a cui devono guardare tutti quelli che d'oggi e poi vogliono fare più, grazie.